Lieve aumento delle persone positive al covid-19 in provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore. Attualmente in provincia sono 1.803 i positivi con un aumento di 43 unità rispetto alle ultime 24 ore. Sono 124 i pazienti risultati positivi al covid-19 nell'ultima giornata, tutti in isolamento domiciliare. Nel dettaglio 45 pazienti sono di Gela, 35 di Caltanissetta, 3 di Niscemi, 11 di San Cataudo, 4 di Sommatino, 2 di Mazzarino, 2 di Milena, 2 di Mussomeli, 2 di Serra di Falco, 2 di Santa Caterina, 1 di Butera, 1 di Campofranco, 1 di Marianopoli, 1 di Resultano, 1 di Riesi e 1 di Villalba. Ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti di Gela, 2 di San Cataldo e 1 di Campofranco, mentre un paziente di Gela è stato trasferito in un'altra provincia. Sono stati dimessi dalla degenza ordinaria 2 pazienti di Caltanissetta. Risultano guariti dal covid-19 32 pazienti di Gela, 24 di Caltanissetta, 9 di San Cataldo, 5 di Niscemi, 4 di Milena, 3 di Butera, 1 a Bonpensiere, Delia, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Serra di Falco e Sommatino.